100 notizie Brindisi, un cordiale saluto ai nostri telespettatori, benvenuti a questa edizione della telegiornale che apriamo con un aggiornamento che riguarda il Covid-19. Intanto l'effetto dopo l'ufficializzazione dell'entrata in vigore della Green Pass in alcune circostanze a partire dal 6 agosto prossimo perché a fine giornata ieri in Puglia l'incremento delle prenotazioni dei vaccini è stato di circa il 40% con picchi soprattutto nella provincia di Taranto e questo l'effetto dell'introduzione dell'obbligatorietà del Green Pass per frequentare determinati luoghi. I dati forniti dalla regione Puglia a Lanza sono ancora in divenire. In provincia di Brindisi ad esempio si passa da circa 1.100 prenotazioni alle 1.500 di ieri rispetto a ieri mattina quando l'aumento era di circa il 10% nel corso della giornata. Si è intensificato il numero di pugliesi che ha deciso di fissare un appuntamento negli hub per vaccinarsi contro il Covid. Sul fronte invece dei nuovi contagi è stato diffuso il bollettino epidemiologico della regione Puglia che fa riferimento ad oggi 24 luglio e cioè sono stati registrati 13.143 test per l'infezione da Covid-19 e sono stati registrati 138 casi positivi, 15 dei quali in provincia di Brindisi. Fortunatamente a livello regionale non sono stati registrati decessi. Ed ora la cronaca. Mesagne, 39 anni, arrestato per maltrattamenti nei confronti dei genitori ai quali chiedeva anche denaro per gli stupefacenti. Sentiamo. Maltrattava i genitori ai quali chiedeva costantemente denaro per acquistare stupefacenti 39enne di Mesagne arrestato dai carabinieri. I militari hanno arrestato in flagranza di reato per maltrattamenti in famiglia e contestualmente denunciato a piede libero per tentata estorsione un 39enne del posto. Venerdì sera un 62enne e una sessantenne, genitori dell'aggressore, entrambi di Mesagne, hanno chiesto l'intervento del 112 dopo l'ennesima aggressione fisica ricevuta dal figlio. I militari giunti sul posto hanno constatato che l'uomo, oltre ad aver distrutto su pelletti di varie nell'abitazione, aveva spintonato violentamente il padre procurandogli delle escoriazioni medicate dal personale del 118. Dai successivi approfondimenti è emerso che nel corso dell'ultimo anno il giovane si è reso responsabile di maltrattamenti, vessazioni, violenze e umiliazioni nei confronti dei genitori conviventi per ottenere quotidianamente la somma di 10-20 euro per l'acquisto di stupefacente. L'uomo è stato condotto presso la casa circondariale di Lecce come disposto dall'autorità giudiziaria. Ancora cronaca, carabinieri di San Vito dei Normanni che hanno arrestato due persone per la detenzione di droghe e armi è accaduto a San Michele, Salentino e a Latiano. A San Michele, Salentino e Latiano i carabinieri del nucleo operativo e radiomobile della compagnia di San Vito dei Normanni hanno arrestato in flagranza di reato un 51enne di Ostuni e un 48enne di Carovigno per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, detenzione illegale di armi e munizioni, ricettazione e detenzione abusiva di armi. In particolare i militari hanno perquisito le abitazioni dei due rinvenendo e sequestrando 5 involucri contenenti cocaina, un bilancino e vario materiale utile per il confezionamento delle dosi nell'abitazione del 51enne. Ancora cocaina, 2 kg di marijuana in una confezione sotto vuoto, 20 confezioni di hashish del peso complessivo di 2 kg, ancora un bilancino di precisione, materiale utile per il confezionamento, un fucile da caccia clandestino, un altro rubato presso l'abitazione del 48enne. Quanto rinvenuto è stato sequestrato? Il 51enne è stato condotto presso la sua abitazione in regime di arresti domiciliari, mentre il 48enne è stato condotto presso la casa circondariale di Brindisi. Potrebbe essere ad un punto di svolta una questione della quale si discute oramai da tempo. Parliamo delle opere di urbanizzazione nella frazione di Torrerossa, nella contrada di Torrerossa, meglio frazione Tuturano e quindi siamo a Brindisi. Una luce in fondo al tunnel è quella che vede il Partito Repubblicano ed è soddisfatto il consigliere comunale Gabriele Antonino per la formalizzazione da parte di SNAM a sostenere i costi delle opere. Contrada Torrerossa, la luce in fondo al tunnel, così la definisce Gabriele Antonino, capogruppo del Partito Repubblicano in consiglio comunale a Brindisi. La nota è indirizzata dalla società SNAM Rettegas all'amministrazione comunale con cui si conferma la disponibilità ad eseguire a propria cura e spese le opere di urbanizzazione mancanti in contrada Torrerossa e la conferma, esordisce Antonino, che quando in consiglio comunale si raggiunge l'unità di intenti i risultati si conseguono. Appunto per questo, specifica, ho accettato di buon grado di emendare il mio ordine del giorno discusso nel consiglio comunale dell'8 luglio e poi fatto proprio da tutti i componenti dell'assise cittadina con cui si impegnava l'amministrazione comunale ad accettare l'offerta di SNAM Rettegas a realizzare le opere di urbanizzazione a fronte di una formale manifestazione di volontà e preva consegna da parte del Comune di Brindisi dei progetti preliminari riguardanti gli interventi da effettuare. Ora, aggiunge ancora Gabriele Antonino, è auspicabile che il tavolo tecnico richiesto da SNAM si svolga nel più breve tempo possibile e che la struttura burocratica si attenga all'atto di indirizzo espresso dal consiglio comunale. Tanto a conferma del percorso concordato nell'incontro del 9 luglio fra il sindaco, i capigruppo consigliari ed una delegazione del comitato dei residenti nella contrada Torrerossa. In questo modo, conclude il rappresentante del PRI, un altro pezzo di Brindisi sarà dotato delle opere e dei servizi. Da buio è potenzialmente pericoloso, ad un'esplosione di colore si spera da un luogo anche più sicuro. È stata inaugurata ieri infatti l'opera di street art di Mr. Wani, nuovo volto per il sottopasso di Via Appia. Ce ne parla Andrea Contaldi. Sentiamo. Il passaggio pedonale tra Via Appia e il centro, ora è un luogo accogliente e abitato da storie. Lo dichiara il sindaco di Brindisi, Riccardo Rossi, che spiega. È stata inaugurata l'opera di street art e writing di Andrea Sergio, Mr. Wani, un intervento artistico per il Brindisi Performing Arts Festival, nato da un'idea del direttore artistico Vito Alfarano, sostenuta dal comune di Brindisi. Ora il sottopasso è una galleria d'arte con tante citazioni sulla città e riferimenti alla vita privata dell'artista che appartengono ad ogni essere umano, l'amore e il desiderio di un futuro migliore. Andrea, prosegue Rossi, ci ha raccontato di aver realizzato l'opera con il sostegno di diverse generazioni. Hanno collaborato all'intervento giovanissimi aspiranti artisti e i suoi compagni di battaglie degli anni 90. Sono numerosi inoltre i consigli e l'incorraggiamento ricevuti da tutti i passanti. Entrando da Via Appia si legge «Questo è un atto d'amore, amo Brindisi in modo incondizionato, la immagino rifiorire ogni giorno, sempre più bella». Non c'è altro da aggiungere, conclude il primo cittadino, se non dire grazie a questi talenti di Brindisi per l'energia che hanno sprigionato e che ora appartiene alla città e al suo tessuto urbano. Abbiatene cura. Servizi ai cittadini. Qual è la qualità che gli stessi percepiscono? Il Comune, per capirne di più, ha avviato un'indagine sul suo sito istituzionale. Ancora Andrea Contaldi. Il Comune di Brindisi sta procedendo alla rilevazione della qualità percepita riguardo ad alcuni servizi comunali. Partecipando all'indagine sulla qualità percepita si contribuisce attivamente a migliorare i servizi erogati grazie a preziosi feedback sulla rispondenza dei servizi alle effettive esigenze dei cittadini. Le rilevazioni sulla qualità dei servizi avvengono in forma anonima e attraverso la compilazione telematica di appositi questionari presenti sul sito del Comune di Brindisi www.comune.brindisi.it accessibili dalla voce, rilevazione, qualità dei servizi. L'amministrazione comunale è interessata a misurare l'erogazione delle prestazioni in funzione dell'analisi dei bisogni, rapportando la soddisfazione degli stessi rispetto a standard predefiniti. Si procede alla rilevazione della Customer Satisfaction, in cui il compito dell'amministrazione è dare risposte adeguate alle esigenze dei fruttori dei servizi. Vengono proposti alcuni questionari al fine di conoscere l'opinione dei cittadini in merito alla qualità di specifici servizi erogati su asilinido, rilascio certificati demografici, raccolta rifiuti e servizi o tributi. I moduli proposti possono essere compilati direttamente in modalità telematica e i dati saranno ricevuti nel completo anonimato. Sarà italiana la prima medaglia delle Olimpiadi. Il giovane atleta di Taekwondo, Vito dell'Aquila di Mesagne, infatti, è in finale. La soddisfazione della sua città natale è attraverso le parole del sindaco, Toni Matarrelli. Vito dell'Aquila, giovane mesagnese, in finale di Taekwondo alle Olimpiadi di Tokyo. Sarà sua la prima medaglia italiana della competizione. L'atleta azzurro, allenato dal maestro Roberto Baglievo, si è aggiudicato il podio battendo l'argentino Lucas Lautaro Guzman. La soddisfazione del sindaco di Mesagne, Toni Matarrelli, è la stessa della sua città natale e dell'intera provincia. La prima medaglia d'oro italiana è pugliese, brindisina mesagnese. Il nostro concittadino Vito dell'Aquila vince questa medaglia prestigiosissima di cui siamo particolarmente orgogliosi noi mesagnesi, ovviamente. Tra l'altro si conferma che questa nostra città, Mesagne, è senza dubbio la capitale italiana del Taekwondo, perché prima di Vito dell'Aquila abbiamo anche avuto un altro oro olimpico, quello di Carlo Molfetta nel 2012. Inoltre a Mesagne risiede un altro grande campione, Mauro Sarmiento, che ha vinto l'argento nel 2008 e il bronzo nel 2012. Quindi una città che riesce a sfornare campioni in continuazione. Questo ovviamente va a merito del grande lavoro che fa la palestra martial del maestro Baglivo, che ha sicuramente qualcosa di magico, riuscendo a creare, ad allevare così tanti campioni, veramente numeri impressionanti. Centinaia e centinaia di campioni italiani, decine di campioni europei e anche campioni mondiali. Noi siamo soddisfatti, siamo felici. Significa questo che in un territorio come il nostro l'impegno e l'abnegazione riescono anche a superare quei limiti che oggettivamente esistono. Da questi risultati importanti di Dell'Aquila, le Olimpiadi di Tokyo, invece allo sport del nostro territorio, soprattutto il calcio. Per saperne di più sentiamo Fabrizio Caglianiello con tutti gli aggiornamenti che riguardano la Serie C e la Serie D. Sono ore caldissime per il calcio italiano, soprattutto per quel che concerne i ripescaggi, perché lunedì conosceremo il destino delle sei squadre professionistiche che sono state bocciate dalla Covisoc, il Chievo in Serie B e altre cinque in Serie C. È una decisione, sarà una decisione che riguarderà da vicinissimo anche il Brindisi, che spera per l'effetto cascata nel ripescaggio in Serie D. Sia chiaro, al momento il Brindisi sarebbe praticamente fuori dai ripescaggi, ma è obbligatorio utilizzare il condizionale perché può succedere ancora di tutto. Per sperare nella promozione d'ufficio intanto devono essere bocciate tutte e sei le squadre che sono state, le cui iscrizioni sono state respinte in prima istanza per quanto riguarda il professionismo. Poi bisognerà attendere un altro step, quello di giovedì quando si esprimerà la Covisoc, invece in questo caso la Commissione di Vigilanza delle Società Dilettantistiche in merito alle domande di iscrizione delle società di Serie D. Sappiamo che in prima istanza hanno presentato domanda 169 squadre delle 171 che hanno composto gli organici nello scorso campionato, ma bisogna scendere a 166 così come disposto dalla LND perché questo sarà il format per il prossimo torneo. Quindi il Brindisi che, come sappiamo, l'abbiamo anticipato ieri, è ufficialmente quinto in graduatore, non è nelle prime posizioni perché ha una matricola molto molto giovane, quella che apparteneva al Real Paradiso. Il Brindisi dunque deve sperare che salti qualche altro posto in Serie D. Sono due le situazioni di criticità che si sarebbero registrate in queste ore. Se dovesse essere confermata la bocciatura di altre due squadre della Serie D, a quel punto il Brindisi sarebbe ripescato. Ma qualora dovesse andare male anche in questo senso c'è un'altra possibilità ancora per il Brindisi perché, come è noto, la LND dovrà accogliere in sovrannumero l'articolo 52,10, quelle compagini che, ne faranno domanda ovviamente, che non saranno riuscite ad iscriversi nei professionisti. In quel caso la Lega ha già deciso che non farà gironi dispari e quindi qualora dovessero esserci dei sovrannumeri verranno riaperti ancora i termini dei ripescaggi dall'Eccellenza alla D per rendere pari magari a 20 squadre i vari gironi. Questo per quanto riguarda il Brindisi. Chiudo con la notizia di mercato. Manuel Botta, il talentino classe 2002, ha firmato con il Cerignola e quindi saluta Brindisi. Passiamo adesso invece alle questioni di mercato e ci spostiamo in Serie C. Confermata la nostra indiscrezione sul passaggio di Vasquez al Catanzaro. Tutto fatto praticamente. L'accordo è stato raggiunto ieri in Calabria tra le due società perché il giocatore già aveva l'accordo con il Catanzaro, tant'è che già si era praticamente trasferito. Mancava l'accordo economico, soprattutto relativo alle modalità di pagamento tra i due club. Ieri mattina il Catanzaro è muto incontro a quelle che erano le richieste del presidente Antonio Magri, quindi partita chiusa. Vasquez è praticamente un giocatore del Catanzaro con la Virtus Francavilla che per ora non cercherà un altro attaccante, vedrà se si aprirà qualche spiraglio negli ultimi giorni di mercato e nel frattempo tratterrà Ciccone che sembrava invece sul punto di partenza. Arriva il portiere classe 2003 in pressio dal Milan, pressio secco Cassano e già Francavilla si sta già allenando e c'è poi questa situazione abbastanza particolare che riguarda Riccardo Ida. Il giocatore aveva manifestato l'intenzione di tornare a Francavilla ma vuole aspettare, così come vuole aspettare la sua società di appartenenza il Catanzaro, l'eventuale ripescaggio in Serie B. Queste sono le ultimissime notizie. Martedì in tema mercato avremo una puntata davvero speciale di Cento Sport Magazine. E con questo è tutto per quanto riguarda questa edizione del nostro telegiornale, ha curato la parte tecnica Dario Spagnolo. Ora la linea ritorna a Taranto. Grazie per essere stati con noi, arrivederci e buon proseguimento di serata.